Sotto il regno dei primi tolomei, successori di Alessandro Magno, la prosperità dell'Egitto era notevolmente aumentata grazie al miglioramento delle tecniche agricole, alla fondazione di nuove colonie di soldati contadini e alla bonifica di alcune aree paludose. Tutto ciò faceva della Valle del Nilo il granaio del Mediterraneo. Roma, tra il II e il I secolo a.C., era una potenza in piena espansione. La ricchezza dell'Egitto attirava inevitabilmente l'attenzione dei membri del senato romano. L'autorità politica dei tolomei, dopo gli splendori iniziali, cominciava a declinare a causa delle lotte dinastiche tra i pretendenti al trono. I romani aiutavano ora l'uno, ora l'altro dei contendenti per impedire che trionfasse l'autorità di un unico regnante. In tal modo l'Egitto si riduceva sempre più sotto l'influenza romana. Nel 51 a.C. salì al trono dei faraoni Cleopatra VII, l'ultima regina d'Egitto, figlia di Tolomeo XII, detto Aulete, a causa della sua passione per l'aulo, strumento musicale affine al flauto. Cleopatra era una donna accolta, amava l'arte e la letteratura e, a differenza degli altri tolomei, che parlavano solo il greco, aveva voluto apprendere anche l'egiziano. La giovane sovrana trascorreva molte ore nella biblioteca della capitale, Alessandria. Visitando da bambina le gloriose città di Tebe e Menfi, Cleopatra aveva compreso gli antichi culti e le credenze dell'Egitto. Il suo progetto politico era diffondere in armonia gli elementi della cultura egizia e di quella greca, assicurandosi in questo modo l'appoggio del potente clero locale. Incontrò tuttavia difficoltà nel perseguire il suo scopo. Nel 48 a.C. fu costretta a fuggire da Alessandria per l'opposizione dei cortigiani e dei consiglieri di suo fratello Tolomeo XIII, con il quale divideva la responsabilità del potere. L'arrivo dei Romani nella Valle del Nilo segnò l'inizio della riscossa di Cleopatra. Ottenuto l'appoggio politico di Giulio Cesare, la regina riacquistò il potere, pur dovendo condividerlo, dopo la morte di Tolomeo XIII, con l'altro fratello, Tolomeo XIV. Cesare fu affascinato dalla brillante personalità della giovane regina. Dalla loro relazione nacque Cesarione, affettuoso diminutivo che in greco significa piccolo Cesare. Il bambino fu anche egli associato al regno, con il titolo di Tolomeo XV. Durante il soggiorno alessandrino di Cesare, esplose però nella capitale un'insurrezione nazionalistica. Negli scontri che ne seguirono, la biblioteca di Alessandria subì un incendio. Caddero così in cenere migliaia e migliaia di volumi, preziosi papiri, che contenevano il meglio della cultura greca. Fu una perdita culturale immensa, che addolorò profondamente Cleopatra. Tornato a Roma, Cesare, ormai all'apice del potere, si fece raggiungere dalla regina sua amante. L'arrivo a Roma della sovrana straniera, come vediamo in questa celebre ricostruzione cinematografica, fu circondato dallo sfarzo e da un alone di esotico mistero. Nel 44 a.C., alle Idi di marzo, Cesare fu ucciso in una congiura ordita dai senatori. Rimasta priva di appoggio, Cleopatra fece ritorno in Egitto. Per rafforzare il suo ruolo, la regina si fece ritrarre in un monumentale basso rilievo sulla parete sud-ovest del tempio della dea Atora a Dendera, in compagnia di Cesarione, effigiato nella sua qualità di faraone regnante. In tal modo, Cleopatra intendeva presentarsi come divinità vivente, secondo l'antica tradizione faraonica. Ma senza l'accordo con la potenza romana, il suo trono era troppo fragile. Per questo, la regina accolse ad Alessandria Marco Antonio, triunviro romano, uno degli eredi politici di Cesare. Dalla loro relazione sentimentale, nacquero due gemelli. In cambio dell'appoggio offerto dall'Egitto ad Antonio, Cleopatra si assicurava il controllo di ricchi territori dell'Oriente già appartenuti ai Tolomei, come l'isola di Cipro e la Cilicia. Il matrimonio tra Antonio e Cleopatra, celebrato nel 37 a.C., fu il punto più alto dello splendore politico della regina, ma anche l'inizio del suo declino. A Roma, il rivale di Antonio, Ottaviano, ebbe buon gioco nel dichiarare che i due amanti minacciavano la sicurezza dei domini di Roma e che stavano progettando di spostare la capitale dell'impero da Roma ad Alessandria. Nel 31 a.C., la flotta da guerra di Ottaviano sconfisse ad Azio, un promontorio dell'Epiro, quella di Antonio e Cleopatra. Nel corso della battaglia, la nave di Cleopatra fuggì verso l'Egitto, seguita da quella di Antonio, che, rientrato ad Alessandria, morì suicida tra le braccia della regina. Cleopatra, per non cadere viva nelle mani dei vincitori, si diede la morte con un rettile velenoso, probabilmente un cobra. Nel 30 a.C., rimasto padrone dell'intero dominio, Ottaviano proclamò l'Egitto provincia romana, definendolo giardino privato dell'imperatore e affidandone il governo a un prefetto di nomina imperiale al comando di numerose legioni. Da quel momento l'Egitto subì la sorte di tutte le altre province romane. Le sue ricchezze furono depredate. I più importanti prodotti dell'agricoltura, grano e papiro, presero la strada di Roma. La capitale fu abbellita con alabastro e con il granito proveniente dalle cave di Aswan. Il porfido delle miniere del deserto orientale, già sfruttate da Cleopatra, fu trasportato a Roma e in altre città dell'impero per la costruzione di monumenti e oggetti di lusso. I romani apprezzarono particolarmente gli obelischi posti davanti all'ingresso dei templi egizi. Gli imperatori ne organizzarono il trasporto nella capitale con navi speciali per decorare tombe, circhi e piazze. Dalle rive del Nilo si diffusero anche culti e credenze religiose. I misteriosi rituali della dea Iside, sposa di Osiride e madre di Horus, attecchirono a Roma e in altri centri, affiancandosi a quelli delle divinità pagane già venerate dai sudditi dell'impero. Nella veste di successori dei faraoni, i sovrani di Roma continuarono l'opera di restauro, completamento e arricchimento dei templi. Nel santuario di Hathor a Dendera, l'imperatore Traiano appare nel tradizionale costume del faraone mentre porge un'offerta rituale alla dea Hathor. Un altro esempio della fusione tra le due culture è questa statua di centurione armato con la corazza romana che culmina con la testa di falco di un antico dio egizio. L'Egitto fu meta di pellegrini e viaggiatori greci e romani. Per la valle del Nilo nutri una vera devozione l'imperatore Adriano, che visitò l'Egitto e vi fondò la città di Antinopoli in onore dell'amato Antino, morto tragicamente in quel luogo. Nella sua fastosa villa di Tivoli, presso Roma, Adriano volle riprodurre uno scorcio dell'Egitto faraonico facendo costruire un Serapeo, tempio del dio Serapide, sul modello dell'originale santuario di Alessandria. Con la crisi dell'impero romano, preda delle invasioni barbariche, tramontò definitivamente anche la gloriosa storia millenaria dell'Egitto faraonico.